se mi spieghi un attimo quello che hai detto visto che non c'è stata chiara beh avrai capito lì per lì che non è che ovviamente non mi sono tirata indietro la cosa è che avrei voluto aspettare un po' cioè avrei che avrei voluto che fosse una cosa partita da me non mi andava ancora se è arrivato il bacio perché lo sentivamo sia io che tu quindi non dire che non lo sentivi perché tu potevi benissimo girare la testa ma perché dovevo girare la testa allora significa che lo sentivi se tu hai visto che non c'è stato scambio a pari Mattia non c'è stato scambio a pari che fai? Insisti? Insisto? Ho insistito a darti il bacio io ho insistito a darti il bacio che cosa ho insistito quando mi sono alzato e ti sono venuto contro si è quello che ti ha dato fastidio è quello che ti ha dato fastidio e ho fatto una cosa che non mi sentivo di fare non me ne fai niente c'è un esterno un bacio del genere hai rovinato tutto 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 quello che mi hai messo in testa tu l'hai rovinato tutto quanto tutto quindi mo io faccio a modo mio perché mo mi è stancato forse hanno ragione gli altri forse hanno ragione ci sto mettendo io troppo ci sto mettendo io troppo beh quindi cosa vuoi fare? ci sto mettendo io troppo ci sto mettendo io troppo cosa vuoi fare? cosa vuoi fare? fai a modo tuo o cosa? mi tutelo tutelo i miei sentimenti ma questo bacio tu che senso gli hai dato?